Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Radio Bruno, siamo qui con una grandissima interprete, pronta a emozionarci in questo festival di Sanremo, sto parlando di Noemi. Noemi, benvenuta! Grazie mille, buongiorno! Buongiorno, vogliamo entrare subito nel vivo con te per parlare di questa glicine, quindi della canzone che interpreterai, che hai scelto per questo festival. Tra l'altro in un'intervista, se non sbaglio, ho letto che del disco Metamorfosi che uscirà è la più difficile, quindi volevi proprio metterti in difficoltà. Eh beh, no, ma in realtà a me piacciono le sfide e con questo disco è una cosa che ho riscoperto. Glicine è un pezzo che ha una melodia, un fraseggio che mi piacciono da morire, emotivamente sono legatissima a questo pezzo perché racconta molto bene cosa vuol dire uscire fuori da un momento magari di buio e trovare una nuova energia, una nuova forza per affrontare quello che succederà, una nuova consapevolezza. L'immagine del glicine è bellissimo per descrivere questa cosa perché il glicine ha delle radici pazzesche fortissime, no? Che possono essere anche la nostra forza, le nostre consapevolezze e anche però una fioritura meravigliosamente fragile, no? Che sono tutti i dubbi, le incertezze che poi invece viviamo nella vita. Io mi sento molto affine a questa persona, a questa donna e a questo sentimento di fragilità e forza che viene raccontato nella canzone. Non vedo l'ora di cantarvela dal vivo, è un pezzo complicato perché è un pezzo che ha bisogno di una grande intensità. Io sono emozionatissima per questo ritorno sul palco. Sono tre anni che insomma ho lavorato sul disco nuovo, sulle cose nuove e tornare a Sanremo, cantare davanti a milioni di telespettatori sarà una grandissima emozione. A proposito di cantare davanti, tantissimi saremo perché anche noi ovviamente a seguirvi da casa ma l'Ariston sarà vuoto. Come pensi di prepararti a questo caso così eccezionale? Come fai? Avrai un trucco? Ti concentrerai particolarmente? Guarda io credo che mi mancherà tantissimo il pubblico in platea, questa platea vuota che già ieri alle prove generali abbiamo vissuto però c'era qualche giornalista, c'erano gli autori. Guarda quello che farò io, io di solito come dice Vasco, nel concerto si sceglie una persona, canti tutto il concerto per una persona magari quando sei dal vivo e credo che farò la stessa cosa a Sanremo, sceglierò una persona nell'orchestra o fra i tecnici che sono comunque là davanti a noi e canterò tutto il pezzo per lui nella speranza che quell'energia riesca ad arrivare anche a casa. C'è quindi svelato il tuo trucco che magari altri colleghi potrebbero prendere l'esempio perché mi sembra perfetto. Torniamo un attimo sia al brano perché c'è una similitudine come hai detto della donna di cui canti alla condizione diciamo che stai vivendo adesso e che tanto ha fatto parlare. C'è il tuo monologo per Vanity Fair che ha spopolato perché devo dire racconti di difficoltà e comunque di giudizi che vengono dati spesso a noi donne e quando te lo dico da donna capita e dici vedi qualcuno del mondo dello spettacolo che affronta certe tematiche e dici finalmente. Finalmente, finalmente qualcuno che ne parla, che lo dice, che comunque qualsiasi cosa tu faccia sei vista sbagliata. C'era una frase che mi ha colpito particolarmente, le persone dovrebbero imparare ad essere felici per le scelte che noi facciamo che ci rendono felici. Questa è di una semplicità abissale però è la chiave di tutto. Assolutamente sì, il messaggio che volevo lanciare io è quello, cioè vai bene solo se vai bene a te. Il corpo della donna poi è veramente un argomento delicatissimo perché giustamente ferire i sentimenti delle persone, cioè io questo atteggiamento è un atteggiamento profondamente inclusivo, inclusivo di tutte le persone, di tutti i corpi, di tutte le donne e il fatto che nel monologo si dica sposata sbagliata, single non vai bene, sei magra ti devi fortificare, sei burrosa ti devi dimagrire. Invece la chiave di tutto è una leggerezza mentale, è un essere risolti mentalmente che è quello che mi sembra che piano piano sto facendo io, però io mi sento ancora work in progress, se non mi sento arrivata da nessuna parte, però credo che la leggerezza mentale, l'essere risolti mentalmente ci dà la possibilità di viverci, di vivere il nostro corpo con grande felicità e con grande coscienza di noi, di noi donne e credo che questo era l'argomento veramente che io volevo far arrivare alle persone. C'è la felicità, la felicità è dentro di noi e se noi ci amiamo e se noi stiamo bene non c'è nessun problema, ecco questo è quello che volevo lanciare. Non bisogna sentirsi in difetto di essere se stesse e di essere felice. Grazie. Grazie mille per averlo sottolineato perché non fa assolutamente mai male, anzi ti vedo carichissima comunque, non so se sia per l'emozione appunto di presentare questo singolo nuovo o comunque emani anche a distanza un potere pazzesco, quindi mi viene una sciocchezza chiederti come stai, cioè nel senso dal punto di vista mentale in preparazione a salire sul palco dell'Arison perché mi sembra scontato, ma sei tesa da qualche parte in fondo in fondo? Guarda io sono emozionata da morire, sono emozionatissima, ieri quando sono salita sul palco e dopo tanto tempo che non cantavo dal vivo perché comunque sai questo periodo storico che stiamo vivendo, noi abbiamo seguito tutti i protocolli, quindi ci siamo tutti fermati, quindi non vengo da un tour estivo e risalire sul palco portando questo messaggio, portando anche il peso di questo messaggio, il peso di chi mi ha apprezzato e comunque sia mi sta seguendo, mi rende proprio, mi sembra di aver amplificato tutti i miei sensi e ieri all'inizio della canzone sai un po' la voce mi tremava, poi alla fine mi riprendo e quindi mi faccio forza da sola, che è quello che bisogna fare sul palco poi, però mi ha colpito tanto questa cosa e insomma chissà sul palco come andrà, sarò super emozionata comunque. Secondo me spaccherai come sempre, arriviamo un attimo all'album, questa metamorfosi, una parola che sicuramente riassume questo tuo momento con questa copertina che ha alle tue spalle, meravigliosa, con questo look un po' 60-70, un po' sei, cosa volevi essere, un po' figlia dei fiori? Guarda, quello che mi piace della copertina è che è una copertina un po' fuori dal coro, perché è una copertina fuori fuoco, che raccoglie, coglie un attimo, un movimento, no? Adesso oggi si fanno delle copertine meravigliose, molto, con tanta grafica, invece quello è uno scatto così, perché mi piaceva che fosse la diapositiva di un salto, la copertina di metamorfosi, perché la metamorfosi alla fine è un salto che noi ogni volta che lo facciamo lo compiamo verso di noi, verso quello che siamo per essere più felici, per essere più consapevoli e quindi mi piaceva che ci fosse questa immagine, Sì, ma anche molto 70, perché a me gli anni 70 mi raccontano una naturalezza, un contatto anche con, molto sincero, con, non lo so, quando mi capita di vedere quei video ci vedo tanta semplicità, tanta sincerità, ed era quello che volevo trasmettere alle persone che avrebbero visto la copertina per raccontare l'album, assolutamente. Entriamo in questo album dove tantissimi hanno scritto per te, tra i tanti c'è Neffa, che ti accompagnerà giovedì sera, giusto? Sì, certo, Giovanni, mitico Giovanni, sono molto contenta di poterlo avere sul palco con me, anche perché secondo me è un cantautore pazzesco, e secondo tanti altri, non solo secondo me, quello che ho sempre amato di lui è il suo grande amore per queste melodie, soul, funky, rhythm and blues, R&B, che io comunque ho nei miei ascolti, e poi questa sensibilità particolare nei testi, che sembrano molto solari, però in realtà nascondono sempre delle tematiche interessanti, e dei messaggi molto, molto importanti. Sul palco canteremo un suo pezzo, che è Prima di andare via, molto funky come canzone, e ci divertiamo tanto sul palco. Sai, io nelle serate porterò un pezzo molto inedito, molto intenso, che è il mio inedito. Invece con lui ci siamo presi, diciamo, la responsabilità di portare sul palco di Sanremo un po' di sogno, un po' di leggerezza, e addirittura pensa che i fiati faranno un riflettino di superstition di Stevie Wonder, e quindi, insomma, il funky ci sarà, e ci saremo anche noi, speriamo che vi piaccia. Sanremo 2021 è in collaborazione con Supermercati Famila Con noi, sei in famiglia e Marluri Caricamore